Chi siete voi? Rimesso in mano Che cosa state a fare con questi cartellini in mano? Che cosa avete fatto? Allora, una cosa abbiamo vinto il torneo di 3.7 e il tipo 4.2 Come si vince dal voleto? Come si vince dal voleto? Numero 3.7 Numero 3.7 Che asso manca? E' quello che ti piace di più, dici la verità? No, ce l'ho io pure Ragazzi, volete dire qualcosa agli sconfitti della finale? E' stata una bellissima partita voglio Cioè veramente noi ci siamo divertiti un sacco e è stata direttissima Così divertente che adesso non farino anche il torneo di scuola Ovviamente puntiamo alla vittoria anche in lato E facciamo, facciamo Vabbè ragazzi, quindi sei abbastanza felice a quanto pare? Sì Volete fare un saluto al Bucò? Così? Un poco di altro Ma, vabbè, non solo facciamo il saluto al Bucò Facciamo un saluto al Bucò E pure tutti i tipi che stanno qua E che gufano le tue le facciano saluti Ah, ok Vabbè ragazzi, auguri E ve li porto subito Auguri Auguri, grazie Auguri, grazie Auguri al Bucò